Eccoci qui per un nuovo video, in questo caso un estratto di circa 10 minuti, poco più, con uno studente dell'Accademia che si chiama Johnny, su una coaching che è stata fatta proprio nei giorni scorsi, dove in Accademia andiamo a rivedere e revisionare le operazioni che i nostri trader che stanno facendo l'Accademia stanno facendo per capire dove possono esserci margini di miglioramento, dove andare a lavorare nel caso in cui non si riesca a essere profittevoli e tutte queste dinamiche. Mi sembrava molto interessante proporvi questo piccolo estratto che abbiamo fatto io e Johnny, Johnny mi ha detto che posso pubblicarlo a voi tutti, cercate di andare a capire un po' le cose che ho detto a Johnny perché potrebbero essere utili un po' per tutti, quindi mi piaceva dare un valore un po' a tutti riguardo le parole che ho detto a Johnny e che magari qualcuno di voi che seguirà questo video può implementare nel trading di tutti i giorni. Quindi vi lascio al video e ovviamente vi auguro un buon trading simple e una buona continuazione. Alla prossima! Sì perché allora partiamo da in generale, ho fatto questi sei trade, però per esempio di questi sei mi sono un po' fatto condizionare da un po' il gruppo, un po' Davide, un po' gli altri. Diciamo che di questi sei tre partoriscono solo da me, vengono fuori solo da un mio ragionamento, mentre gli altri tre ho fatto più una roba perché lo facevano gli altri. Ah ok. E sono quelli che perché lo facevano gli altri sono stati i trade che sono andato, che ho gestito più male infatti. E beh certo è così, è sempre così. Sono gestiti male, sono andato a stop e tra l'altro poi se li gestivo meglio non andavo neanche a stop, quindi mentre gli altri li ho gestiti meglio. Bene, allora questo intanto ti fa capire una roba che noi diciamo sempre, Johnny, che è che quando parliamo che il trading è testa, è questo. Ricordati sempre che quando facciamo trading noi dobbiamo avere fiducia, confidence, coraggio e come dire, credere in quel trading. se il trading arriva da me, da Davide, da Piercarlo, da qualcuno che hai visto in trading da Antonio, qualcuno che ha detto qualcosa in trading room, magari tu ci puoi anche essere d'accordo, ma se non lo senti veramente tu, essendo che il trading poi ha tutte queste caratteristiche, sono personali, perché tu quando tradi, non tradi i mercati, ma tradi la percezione che hai su quel mercato. Esatto. in realtà. Ma la tua percezione, che non è per forza. La mia. Capito? Quindi questa cosa qua è fondamentale ed è, se noti, è come pensiamo che ci fa guadagnare nel trading. Quindi se tu in quel momento hai, ti piaceva la cosa, però non era tua, infatti io anche quando mi sento, ogni tanto pure vedo che fate, Davide fa le azioni, oppure comunque ci si sente. Io cerco sempre di rimanere neutro, io faccio quello che sento mio, perché so che poi non lo gestirò mai come lo può gestire Johnny, Antonio, Davide, il suo, capito? Poi magari invece siamo talmente in sintonia e a volte può avvenire perché lo senti tu, lo sente Johnny, però devi capito? Questa cosa ti arriva nel tempo di diventare neutro rispetto a quello che è le voci. Hai detto tu, come introduzione, ho imparato anche che in effetti in alcuni ho capito che mi sono fatto influenzare e se c'è questa influenza ma tu non la senti totalmente, non farlo il trade. Capisci? Esatto. Perché è quella roba lì. Non è questione tanto che il trade sia giusto o sbagliato. No, no. Poi nella gestione c'è chi è andato a break even, c'è chi ha guadagnato e magari io sono a post stop. È proprio perché nella mia visione poi non lo riesco a gestire bene. perché tu non l'hai fatto tu. Non era tu. Non era tu, hai capito? Il trading è personale per quello, quando si dice il trading è tutto a testa, è anche quella roba lì. Anzi, è molto questa roba qua. Bene comunque quello che mi dici, così adesso nel prossimo mese e mezzo, mese, quello che sarà, i prossimi 6-7 trade cerchi di farli tuoi. Sì. Sì, sì, esatto. Magari ci vorrà più tempo perché ne farò meno, però chi se ne frega. Chi se ne frega. Tu fai quello che tu senti che è il tuo. Sì. Non interessa che ne fai pochi, tanti. Devi fare quello che è nel tuo processo che ti dice è giusto fare questo perché sento che qui la tua percezione di quel mercato è quella là e tu tradi quello alla fine perché volentino o lente è quello che tradiamo. Non è che tradiamo l'S&P, tradiamo quello che pensiamo che l'S&P possa fare di base. Esatto. Ed è nostro, solo nostro. Sì, sì. Spegnati tutto e scriviti tutti i motivi che ti fanno fare una scelta. Poi tra due anni, Johnny, magari queste cose non serviranno più, ma in una fase soprattutto di imparare a capire che processi fai per fare che cosa anche? Per vedere quando magari perdi, nel processo decisionale c'è il problema. Sì, sì. Potrebbe essere. Esatto. Ma potrebbe succedere. Allora magari lì te lo trovi e te lo leggi e dici aspetta, questo ho fatto così, questo ho fatto così. Allora, quando faccio così probabilmente è una scelta che non è buona. Se non lo vai, quindi se tu non ti scrivi tutto, poi non riesci a studiarti quello che fai. Siccome lo studio di quello che si è fatto, cioè è Tom Ugard, quello che ha scritto questo libro Best Loser Wins, che ormai ho finito di leggere, è bellissimo. Lui lo chiama The Book of Truth, il libro della verità, che è quello che tu fai, il tuo diario. E solo lì si impara, essendo il libro della verità, se tu scrivi la verità su quel libro, a migliorare i tuoi comportamenti. Sia quelli attivi, quelli che fanno essere inattivo, penso agli incrementi in un certo modo, e quelli invece che magari ti portano a fare delle scelte che poi magari non sono funzionali, non sono efficaci. Ho capito, ho capito, sì. Si va a lavorare sulla gestione, come la gestisco? Eh, ma sì, perché dopo se tu ti scrivi... Il diario serve per quello a noi, a me, che tu scrivi al diario, se poi non c'è un riguardarsi il diario per vedere cosa hai fatto e dove puoi migliorare, non serve più di tanto. Sì, serve per darti una disciplina nel capire che comunque cosa stai facendo bene, ma al di là di quello, il diario serve per poi riguardarselo. Dopo qualche mese, un anno, sei mesi, io a luglio, fine metà luglio, fine luglio, mi sono riguardato tutti i diari degli ultimi quattro anni, come gli ho scritto anche nella lettera, che poi ho switchato un po' in un'operatività un po' più classica mia, stile old school, daily quattro ore, weekly, ma perché mi sono riguardato tutti i quattro anni ultimi, dal 2020 ad oggi, e ho visto dove erano, dove io eccellevo, capito? E quindi ho detto devo sterzare di là, e dove magari eccellevo meno, punti di miglioramento, no? Ma l'ho visto solo perché mi sono scritto le cose che ho fatto, se no me le fossi scritte, insomma ritornare a capire dove potevo avere, dove ho le mie forze, sì è vero, ormai mi conosco nel trading, so un po', però averlo scritto e sapere che, non so, ho fatto quei sei mesi di fuoco e vedere come ho lavorato in quei sei mesi di fuoco e riportarmeli qua e dire, beh, infatti poi ad agosto ho fatto un mese buono, hai capito? sono andato grazie al diario, quindi il nostro libro della verità, come ha detto Tom Mugard, è il libro della verità, quindi ecco perché io e Antonio spingiamo che vi scriviate le cose, perché soprattutto in una prima fase, io ancora lo faccio ancora oggi, però in una prima fase conoscitiva di te per come lavori sui mercati, perché tu certi comportamenti sono magari automatici, no? Ti vengono, sono quasi inconsci, ma magari sono comportamenti che a livello generale, tuo, personale, sono buoni nella vita di tutti i giorni, però nel trading non va così, non tutto quello che è normale, no? Non sono funzionali. Devo spesso pensare in maniera anormale, no? In maniera diversa nel trading, per non essere il 90% dei trader che fa fatica a guadagnare sui mercati, capito? Quindi questa cosa qua ti viene dal diario, il diario ti permette di leggerti e quindi ecco perché voglio che tu scriva, tanto adesso hai svariati mesi, scriviti ogni mese e così poi quando ci rivediamo noi, prima che noi ci rivediamo, tu ti guardi il diario, vedi un po' quello che hai fatto, così magari parlando, tu mi dici, guarda, mi sono accorto anche che nella seconda operazione che ho fatto, questa qui, guardando anche il diario, adesso riguardandomelo, sì, in effetti ho fatto questa cosa, qui l'ho gestita così, vedo che quando la gestisco così magari io mi trovo meglio, oppure anche solamente quando, non so, alzo troppo la size o c'è una certa situazione, provo dolore. Cioè proprio tutto quello che è, perché tutte queste robe qua possono portarci a fare il salto, hai capito? Il trading è molto personale. Allora in Accademia sta roba qua noi dobbiamo cercare nella parte pratica di farla uscire. Cioè l'Accademia che abbiamo creato, quello che voglio dirti adesso non voglio fare, però è, bene, teoria perché così si acquisiscono le competenze a livello teorico, quindi sia a livello di mindset, sia a livello di grafici, di quello che è il nostro metodo. La teoria la sappiamo. Poi però bisogna mettere in pratica la teoria, quindi sapere cosa fare e saperlo fare. Sono due cose. Tu adesso sai cosa devi fare. Adesso stai praticando, quindi stai cercando di fare esperienza sul mettere appunto in pratica ciò che sai in realtà, perché tu in teoria le cose le sai. Abbiamo fatto anche la prova e tutto. Quindi l'Accademia serve per fare il level up e quindi lavorare anche su queste dinamiche mentali, queste dinamiche personali. Io per esempio l'obiettivo può essere quello che, non so, nel prossimo anno e mezzo devo iniziare a sensibilizzarmi su size sempre più alte. Questo è il mio obiettivo. Che non è che magari poi io sul platino farò vedere queste cose, che non è, sono cose mie personali. Ma allora devo cercare sempre di provare sempre un po' più di disagio. Appena provo disagio vuol dire che sto andando bene, perché il mercato è quella roba lì. Allora tu però devi sentirlo e devi studiarti. Allora io devo capire, c'è una situazione tecnica, mi va sulla parte mia personale. Come ho reagito? Che cosa ho fatto? Quello lì è un comportamento che quando lo faccio guardando il diario funziona. Quando faccio questa cosa, perché la faccio? Cosa ho provato? Allora nella parte del del diario, quella delle decision making, scrivitelo. O sulla parte dei commenti, dove vai meglio. L'importante è che tu te lo fissi e sai queste cose. Perché sono tutte dinamiche queste qua che ci portano poi a migliorarci. Tu vedi che fai una determinata azione e quando succede una cosa hai paura, hai senso di smarire. Cioè qualsiasi cosa, scrivitelo perché dici, allora lì poi ci lavori. dici, siccome quando io faccio sta cosa provo paura. Perché provo paura? Sto usando troppi soldi? Ho fatto un setup o in un time frame o in una situazione che non la sento mia. Perché non la sento mia? Allora vai a lavorare lì. Così poi arriviamo, ecco che è il plus dell'accademia, arriviamo ad avere poi, come dire, un... siccome il trading è testa, il trading è cercare di... potremmo dire battere te stesso, no? Più che il mercato, perché sappiamo che non è che dobbiamo battere il mercato. Allora lì, se tu, quando siamo conosci bene te stesso e quindi riesci a capire come reagisci, lì dopo è uno... è uno scalare. Quindi è importantissima questa cosa, Johnny. Sì, sì. Sì, non l'ho proprio compilato così dettagliatamente. Adesso ho capito. Al prossimo appuntamento, tanto noi ci troviamo circa una volta al mese, mese e mezzo per vedere, no? Le operazioni che stai facendo, le fissi queste cose, così magari me le condividi e le vediamo insieme anche. Sì, non ho... effettivamente non ho segnato quando sono uscito e non ho segnato le emozioni nel decision making. Eh, la roba lì è quello che poi ti fa fare lo switch. Perché poi tecnicamente le cose noi abbiamo visto, tu le sai. Non è che non le sai. Adesso dobbiamo lavorare su quella roba che è la parte più difficile, eh? Eh, non so. Però ci si arriva, eh? Non tutti siamo uguali, ma ci si può arrivare. Assolutamente. Perché no?